ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il parafarmaco macrobiotica integratori alimentari biotobio srl ultimo aggiornamento primo settembre 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali modalità d'uso descrizione e caratteristiche importante a cosa serve macrobiotica integratori alimentari è un parafarmaco appartenente alla categoria degli altri alimenti dietetici è commercializzato in italia dall'azienda biotobio srl informazioni commerciali titolare biotobio srl concessionario biotobio srl categoria di appartenenza altri alimenti dietetici confezioni macrobiotica integratori alimentari umeboshi con sciso 100 g modalità d'uso a pezzetti per condire cereali e verdure o come base per la preparazione di salse descrizione e caratteristiche controlli per acidità gastrica fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato Grazie 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 Grazie